Samuele, il primo pareggio della stagione, salutato dall'applauso dei tifosi alla fine della partita e questo la dice lunga anche del fatto che la gente abbia apprezzato la prestazione. C'è un po' di rammarico per non averla vinta questa partita? Il rammarico, oggi non siamo riusciti a buttarla dentro, abbiamo avuto tante occasioni sia nel primo che nel secondo tempo però penso che ci può stare, ringraziamo i tifosi che come al solito ci dimostrano grande affetto. Abbiamo visto oggi dopo il pareggio come ci hanno sostenuto alla fine, adesso pensiamo mercoledì in Coppa Italia Livorno e poi domenica rifarci in campionato. Sono tre partite che la squadra fa un po' fatica a buttarla dentro, Flaminia, Seravezza, oggi c'è una spiegazione che vi ha dato anche il mister o sono i periodi del campionato che poi vanno e vengono? No, penso che sono i periodi, comunque nelle prime partite abbiamo segnato anche con Costanza la prima 4-0 o comunque abbiamo fatto partite che abbiamo segnato, ci sta comunque contro queste squadre organizzate che magari non la sblocchiamo subito e poi magari diventa più difficoltoso, oggi non siamo riusciti a sbloccarla appunto e poi nel secondo tempo non siamo riusciti a vincerla come era capitato magari a Flaminia o col terra nuovo in casa. Mi dici com'era giocare su questo sintetico che è nuovo ma che comunque è un terreno diverso dall'erba naturale? Sì, sì, noi siamo comunque abituati a allenarci sempre sull'erba però questo non deve essere una scusante assolutamente il campo comunque era buono, ci sta che veniamo a giocare comunque in campi sintetici, ce ne staranno anche altri durante il campionato e niente, oggi è andata così e speriamo di rifarci subito mercoledì e poi domenica in campionato. Una cosa a livello personale, come stai vivendo questo inizio di stagione? Hai fatto le tue presenze anche se c'è molta concorrenza là dietro? Sì, sì, come avevo detto l'intervista che mi feci a inizio anno c'è molta concorrenza sulle facce io quando il mister mi chiama in casa cerco sempre di dare il massimo e oggi penso di essere entrato bene e ora vediamo insomma nelle prossime partite però come ho detto sempre a inizio anno sono contento di avere questa concorrenza perché comunque penso che uno può solo migliorare avendo dei giocatori nel proprio ruolo bravi.